E quest'oggi all'insegna di non c'è più tempo possiamo già iniziare a fare i primi weekend ovviamente sulle nostre quattro ruote in compagnia di Magli in questo caso Monica a parlarcene ciao. Allora siamo pronti a partire, molti sono già in partenza, chi ha la roulotte e chi ha il camper anziché aver dovuto prenotare su internet con rischio di non sapere dove va a finire, con rischio comunque che magari il bambino si ammala all'ultimo momento o con rischio sicurezza, può cadere un aereo, può affondare una nave e puntini puntini. Puntini puntini, invece noi con la nostra roulotte o con il nostro camper possiamo girare sempre ovunque, se abbiamo una nonna che ci tiene i bambini la possiamo portare la roulotte in campeggio, non abbiamo problemi di orari, di cambiarci, di mangiare, se vogliamo andare a mangiare al ristorante ci possiamo andare comunque. Quando è finito di far da mangiare la roulotte è pulita e pronta perché tanto sono pochi metri quadri dove però abbiamo tutti i comfort. E poi ci possiamo portare proprio dietro le nostre abitudini insomma, questo è importante. I nostri spaghetti, i nostri maccheroni per i bambini, il nostro vino, tutta la nostra tradizione è casalinga. Ci sono degli sconti favolosi in questo periodo per gli ultimi ritardatari, ci sono dei pagamenti ancora più straordinari dove la prima rata parte dopo quattro mesi, non ci sono spese distruttori, il tasso è fisso, quindi abbiamo delle rate a partire da 100-150 euro al mese e poi personalizzabili. E poi scusami Fabrizio un'altra cosa, quando anche abbiamo acquistato una roulotte è vero che è un investimento, però un domani non ci piace si può rivendere e rimane un valore molto alto perché le roulotte se sono valide con la dotazione e gli accessori hanno sempre un valore che rimane. Insomma è un po' come il mattone, in questo caso sono su quattro ruote. Non è la prenotazione in albergo che poi va buttata, qui ti rimane sempre un valore, quindi è un investimento anche nel tempo. Non dimentichiamo che sono tutte accessoriate ma qui siamo nella casa dell'accessorio per il vostro camper, per la vostra caravan e quant'altro. Per chi ce l'ha abbiamo già tavolini, sedie, tutta la dotazione a completamento dove siamo molto forti, tutti vengono da noi a cercare proprio anche i ricambi perché anche quella è una cosa molto importante e l'officina. E allora mi raccomando venitela a trovare, gli indirizzi sono in sovrimpressione senza impegno per vedere le vostre future vacanze. Grazie a te e noi continuiamo.